Ringrazio Dottor Rami, è stata per noi una guida fantastica, parla benissimo moltissime lingue, noi siamo italiani, parlava italiano, ma parla sette lingue, è molto preparato, ci ha illustrato tutta la storia dell'antico Egitto, sa decifrare tutti i geroglifici, veramente è una persona splendida, poi anche come carattere è veramente simpaticissimo, lo consiglio, grazie. Grazie mille.